Erbacce e incuria sono oramai dominanti in via Leonardo da Vinci. Abbiamo iniziato gli interventi già il mese scorso e soprattutto nelle scuole in vista delle aperture. Ogni 20 giorni vengono ripulite tutte le aiole e tutti i spazi adiacenti alle scuole. La denuncia dello stato di abbandono è stata fatta da alcuni genitori esasperati dal degrado che letteralmente bracca ogni attività all'aperto dei giovani che si ritrovano nei pressi della struttura del plesso scolastico nel popoloso Rione. Poca manutenzione del verde che diventa difficile priorità per la delegata azienda speciale Angri Ecoservizi nonostante gli sforzi e le sollecitazioni dell'assessore delegato Maria Immacolata Daniello. Stiamo mettendo mano a tutto il verde che è sul territorio. Naturalmente Angri è molto grande e gli interventi da fare in questo periodo dell'anno sono davvero tanti. Abbiamo provveduto a piantumare gli alberi che erano stati abbattuti proprio qui nel quartiere 167. Stiamo manutentando il verde pubblico del cimitero con interventi sia ordinari che straordinari perché c'erano alcune alberature in pericolo. Non passa inosservata la discarica di rifiuti speciali che si è formata nell'area di Fondo Caiazzo. Un cumulo che è in corso di formazione proprio alle spalle dello Stadio Novi. Alimentato anche dalla scriteriata in educazione verso l'ambiente di chi conferisce impunemente in una zona scarsamente controllata. Proprio ieri ne ho già parlato col caposettore che in realtà la striscia che è adiacente il campo sportivo tocca alla pulizia, tocca alla SMA come da convenzione in quanto la SMA è incomodato d'uso gratuito nei locali comunali e in cambio dovrebbe offrire la pulizia proprio di quell'area. Il caposettore mi ha già garantito che settimana prossima partiranno i lavori di pulizia da parte di questo organo sovracomunale. In quella zona sarà recintata perché ovviamente gli sversamenti da parte dei cittadini sono continui e quindi come abbiamo fatto nella zona antistante metteremo delle recinzioni anche dall'altro lato. Con le guardie ambientali a breve ricominceremo con la convenzione con loro in quanto abbiamo proprio bisogno di controllo fisico sul territorio ma abbiamo già anche provveduto a prendere delle videocamere che si chiamano fototrappola che verranno installate a breve sul territorio proprio per controllare il conferimento selvaggio dei rifiuti.